impara a nutrire il tuo cane sono stefano pesci istruttore educatore cinofilo comportamentale lescia ero un cane insegnante il cibo può essere la più tua più potente medicina per te per il tuo cane ma può essere anche il più grande veleno per la salute del tuo cane molte persone hanno ormai affidato da anni il cibo la scelta del cibo all'industria sia che sia secco che sia umido molti cani proprio per il consumo di questo cibo poi si ammalano pancreatiti gastriti problemi gastrointestinali ed altri e spesso ricorrono a medicina antibiotici anche operazioni e talvolta queste situazioni possano essere anche letali purtroppo quindi c'è bisogno di chiarezza le persone a volte usano il cibo industriale secco umido che sia per comodità e magari anche c'è anche chi usa forse del cibo fresco tuttavia poi molte persone hanno difficoltà a mettere le giuste combinazioni ad assemblare il giusto cibo e a capire anche la differenza fra alimentazione e nutrizione spesso alimentano il cane in qualche modo ma e cioè il cane mangia ma non lo nutrono con ciò che gli serve come avrebbe in natura impara a nutrire il cane è un corso che ti farà chiarezza e chi terrà ti darà i giusti strumenti per nutrire il cane in modo adeguato se sano naturale con cibo biologicamente appropriato con cibo fresco e con tutte le combinazioni del caso quindi un'esperienza ventennale tanti studi di approfondimento possa aiutarti a tenere bene in cane in salute il tuo cane così come lo è il mio un cane che mangia bene che è nutrito bene in cui il suo cibo e la sua più potente medicina è un cane in equilibrio da un punto di vista fisico mentale emozionale perché ha pagato e soddisfatto ed è un cane forte con muscoli forti con un bel pelo lucido e quindi ha tutta un'area sana contrariamente a quello che avviene con chi fa utilizza utilizza cibo industriale cibo secco quindi impara a nutrire il tuo cane è il corso fatto apposta per te è una durata dalle due alle quattro ore che può variare a seconda del caso è a seconda che ha già fatto corsi con me oppure no e il mio numero per contattarmi e 347 360 1667 puoi mandarmi anche un messaggio via whatsapp mi trovi anche su facebook e mi trovi anche su youtube ti ricordo quindi il mio numero 347 360 1667 ciao da stefano stefano pesci e da sharon cane insegnante ciao carpe diem